La trentesima edizione del concorso scolastico Diventiamo Cittadini Europei si è svolta nell'ambito del Salone del Libro. 54 scuole del Piemonte sono state premiate il 9 maggio all'ingotto di Torino alla presenza di studenti, insegnanti e dei numerosi docenti universitari ed esperti che hanno valutato i lavori. Quest'anno hanno preso parte al concorso quasi 3.000 studenti. I temi su cui si sono cimentati sono stati l'anniversario della Prima Guerra Mondiale e il prossimo appuntamento con le elezioni europee. Alcuni di loro per la prima volta hanno partecipato al concorso con un video. L'Europa a cento anni dalla Grande Guerra è stato il tema trattato da Gianni Toniolo, docente della LUIS di Roma, durante la conferenza di apertura della premiazione.